Matteo Salvini, come commenta la decisione della consulta? Con un vaffanculo che si sente in tutta Italia, perché è veramente una decisione vigliacca, vergognosa. L'ultimo spazio di democrazia che era rimasto, referendum, centinaia di migliaia di italiani che avevano firmato, è stato cancellato, un colpo di spugna. Mi vergogno del fatto che Renzi e Berlusconi, in una mattinata come questa, stessero a parlare di legge elettorale. Mi vergogno che qualcuno ipotizzi Amato, Presidente della Repubblica, membro di quella Corte Costituzionale che ha tolto agli italiani questo diritto. Non finisce qui, non finisce qui perché alla guerra come alla guerra. Questi ci hanno detto non contate un cazzo, conta solo Matteo Renzi e il PD in Italia. Io non sono né Matteo Renzi né il PD e quindi non lascio soli milioni di esodati, disoccupati, mancati pensionati, cassi integrati, non finisce qui. Certo con oggi cambia molto in Italia, con oggi nessuno si azzardi a ipotizzare di ragionare con la Lega se ha avallato persone che hanno preso questa decisione. Perché l'hanno bocciato secondo lei? Paura, 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 hanno fatto una vigliaccata perché sapevano che il 90% degli italiani avrebbe cancellato quella legge del cazzo perché è stata di una legge del cazzo e quindi ci hanno pensato loro. Più facile no? Hop, in una stanza, no non si fa, contate niente, italiani contate niente. La gente si arrabbia, se poi la gente si arrabbia ha ragione, noi stiamo con la gente che si arrabbia. Grazie. Grazie.